Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Hanno rimplementato le sfide di The Kid Laroi Esattamente, nella sezione incarichi possiamo trovare nuovamente le sfide che abbiamo completato a gennaio Non so se ricordate l'annuncio ufficiale che venne fatto precisamente il 23 gennaio riguardo alla mappa di The Kid Laroi Sia la principale che l'after party Rieccole, ragazzi miei Io credo di possedere già tutti questi item nel mio armadietto, almeno credo Però, per tutti coloro che hanno già completato le sfide, ce le ripropone e ovviamente ci dà anche dell'exp A tal proposito, io mi chiedo, ma se le andassi a ricompletare, cosa succederebbe? Cioè, la schermata comparirebbe nuovamente Per schermata intendo quando vengono consegnati i vari premi nel nostro account Sembrerà assurdo, ma ho ricevuto qualche commento riguardo a tali sfide Ovvero, Martex come faccio a completare le sfide di The Kid Laroi? Lo so ragazzi miei, però attenzione Selezioniamo la modalità di gioco e ovviamente tramite la sezione scoperta scorriamo La prima sezione è quella di Epic Il titolo è questo Ovvero, le modalità ufficiali del gioco Battaglia reale, zero costruzioni, arena, oro masticcio, creativa, salve il mondo, rissa squadre Ok, dovete scorrere ragazzi miei e andare fino in fondo Sogni selvaggi di The Kid Laroi e After Party Sogni selvaggi Sono queste le due mappe da giocare Per completare tutti gli incarichi che vi ho mostrato nella schermata precedente Completa l'esperienza Sogni selvaggi di The Kid Laroi Sconfigge la bestia in Sogni selvaggi Sfugi alla bestia Spacca arredamento in Sogni selvaggi Sono le solite sfide ragazzi Le vado a completare velocissimamente di nuovo E vediamo che cosa accade Vabbè, sono un item che sono già presenti nel mio armadietto Quindi non mi aspetto praticamente niente Ricordo che si expava davvero tanto su questa mappa Vediamo se tutto ciò è rimasto uguale Dovevamo aprire degli airdrop ad inizio game Vediamo, vediamo, vediamo Dovrebbe comparire il nostro ragazzotto su quella montagnella Sento un airdrop Ed infatti è caduto lì Eccolo Ah, madonna Avevo dimenticato tutto ciò Oh mio dio Questo lo apro io, dai Magari 200.000 punti esperienza solo per aprire quello Magari Ok, sono apparse le monetine Si, danno exp Benissimo Dovrebbero cadere i primi airdrop per di qua Vediamo, vediamo, vediamo È fighissimo Non sento nulla raga Quindi credo di aver disabilitato Tutto ciò che c'era da disabilitare Perfetto Ok, non da exp come un tempo Assolutamente no Quindi riperati Oh sì Mi sa che siamo a casa di The Kid Dai, dai, dai Aprici, aprici Eccoci Vai Quanti ne dobbiamo distruggere di questi Ok, fatto A posto raga Buona, buona, buona Free exp per noi Oddio Io sono assetato di exp Quindi tutto ciò È meraviglioso Abbiamo ottenuto anche uno spray Già in possesso Quindi va benissimo Stiamo lendando nella Mega City Oddio Che sono sti dispositivi Perché sono così? Dovrebbe comparire qui Eccolo, eccolo, eccolo Madò A sto giro non crepo, eh A sto giro non crepo Mamma mia quanto è bello È fighissimo, raga Sì, sì, sì Run, run No, no, no Via, 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 via Non voglio crepare, raga Vediamo Oddio È dietro di noi Mi fa sempre paura comunque Non è cambiata la cosa Andiamo Veloce, veloce, veloce Oh mio Dio È troppo veloce No, raga Via Ok, si è fermato Cuccia, cuccia, cuccia Ci voliamo Per di qua Sono morto due o tre volte La prima volta che l'ho fatto E vi dirò Tra l'altro, quando crepate Andate in una sorta di paradiso Di The Kid Laroi E l'esperienza continua lì Anche per tutti quanti voi Ha distrutto qualcosa Via Via, via, via Ciao, bello Bella, raga Fatta bene sta mappozza Davvero bellina Questa credo che GioGio L'abbia giocata almeno Cento volte Non sto scherzando Oh Arrivano i dragoniti Fermo, 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 fermo Vabbè, comunque è divertente Raga Ah Oddio Ok Ascensore Salvami tu Oh Sfugge la pesta Inso ogni salvaggio Di The Kid Laroi Level up Let's go Mamma mia, ragazzi miei Mi sta piacendo 4, 5, 8 Dai che dobbiamo fare il 500 Dai, 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 dai Completa gli incarichi Bonus giornalieri Altri 400 V-Bucks Mamma mia, ragazzi Giocarlo così in silenzio Vi giuro Senza audio È soddisfacente Eccola qui la bestiolina A mo' di arena Oh Caspi di rio Sto guanto Sì, sì E spariamolo Vabbè, dai Non gli faremo nulla Ma comunque sia È soddisfacente Allora Cerchiamo di Non crepare Vediamo Dobbiamo distruggere questi Va benissimo Ora Lui Ogni tot Lancerà delle ondate Che ci verranno Addosso E dovremmo doggiarle Quindi evitarle Vediamo, raga Perché sono morto Un bel po' di volte, eh Alle prime volte Ovviamente che ho fatto Sta mappa Non oggi Oh, 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 oh Ok Abbiamo evitato La prima Vediamo, ragazzi miei Dovrebbe arrivare Un mega raggio Ok, salta, salta Doggiato Perfetto Comunque ho 60 HP, eh Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Il cuoricino Ragazzi Sparate al cuoricino Anche i lupacchiotti Vieni i lupacchiotti Salta Preciso Ok, 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 ok Questi li tiriamo giù Va bene, va bene, va bene Va bene Ragazzi Uuuuh Doggiata inconsapevole Qui, eh Dai che va giù, dai L'abbiamo sconfitto Ragazzi Guarda che bello Che figo Il mega cuoricino Ricordo che La prima volta che feci Tutto ciò Mi rovinai l'esperienza Nel senso che Ci fu l'imotto In anticipo Direttamente su questa Pista da ballo E io la schippai subito Come un babbo Eccola E questa la schippai Perché sono scemo Raga Bellissimo Ecco Come lui Vedete La schippate Perché si è mosso Invece noi Siamo così Stiamo fluttuando Completa l'esperienza Sogni selvaggi Ragazzi miei Fatto Eccolo lì Il matchmaking Sì, sì, sì Dovrebbe metterci Direttamente nell'altra mappa Ragazzi Fantastico Quindi Basta completare la prima E verrete direttamente Spiattellati Sull'altra Benvenuto all'after party Esatto ragazzi Avevamo ragione Andiamo Allora Teoricamente Dovrei solamente ballare Qui Vediamo Sì È la contata E poi raccogliere Le note musicali Quante note musicali Se non erro 25 Vediamo Aspetta 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 Stiamo sbloccando Un sacco di cose Dai 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 Oh qui c'è Ah Cinque note Semplicissimo Quattro E cinque Bene 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 Ma qui la bestia L'avete vista raga Ma è fantastico Aspetta Un po' di calore No Beccati questo Bello mio Ragazzi abbiamo finito Abbiamo completato tutto Guardate qui No non ci stanno più gli incarichi Va bene Facciamo una cosa Quittiamo Voi lasciate un bel pollicione All'insù E vediamo che cosa accade Con le schermate Io credo che non riceveremo nulla Perché erano già Item In nostro Possesso Almeno per quanto riguarda Me ed il mio armadietto Stanno quittando tutti Andiamo Vediamo 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 Facciamo ritorno Al menu principale Son curioso Son curioso Potrebbero dare un bonus A tutti coloro Che l'ha Enrico Madonna Gasper No 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 Questi 400 V-Bucks Appartengono Al bundle Crick Sibilante Attenzione Lo sottolineo Non voglio che si pensino Cose strane Attenzione Ragazzi miei Andiamo Riscattiamo Non abbiamo ricevuto Una ceppa Come giusto Che sia D'altronde Assolutamente Anzi Mi ha fatto piacere Giocare nuovamente Quella mappa E soprattutto Guadagnare Tutta Quell'ex Super gustosa Ci siamo Belli miei Nego Seggetti Codigo Martex E la tienda The Fortnite Ti ricordo Tutti quanti Che è il miglior Metodo Per sostenere Il canale Direttamente qui In basso a destra Sulla voce Supporta Un creatore Martex Maiuscolo Minuscolo E sempre Uguale Clicchiamo su accetta Ed il gioco È fatto Andiamo con questa rotellina Dai 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 Che cosa ci proponete Oggi Qualche skin nuova Va bene Qualcosa che puzza I loopers Bananite A go go Criptico Va bene Non ci posso Credere Non ci posso Credere Ragazzi Ma seriamente Faccio il video Dove utilizzo Mystique Per provare in anticipo Questa skin Ed il giorno dopo Mi droppano Serenade Ma di che cosa Stiamo parlando Ma stiamo impazzendo Fantastico C'ho pure 1770 V-Bucks Precisi Precisi Fantastico Raga Straripamento Partiamo Da lei Ragazzi Allora Visualizza Dettagli Attivatore Arma Ok Questo è come si presenta Però 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 Eh Questa non le riesco a sentire Mannaggia È la stessa lobby music Che sentiamo Nel momento in cui Ci avviciniamo All'avamposto Di Serenade Sulla mappa Squarciatrice Marina Non sento nulla Annaggia Come hanno modificato Tutto nello shop Devo dire Questa Non mi fa impazzire Assolutamente No Serenade È bellissima Ragazzi L'ho provata ieri Con Mystique Come dicevamo Meravigliosa La descrizione dice Trasformata Da acque tranquille Il backpack Si presenta Così Ali Di farfalla Bruttine Con la skin Di vedova nera Che stiamo portando Quindi Non le si dicono Per nulla Però qui Ci stanno Da dio Credo Allora raga Vediamo questa Schermata Mannaggia 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 Come hanno dovuto Rovinare tutto Nello shop Ragazzi Bella Mi piace Ma la skin È reattiva Scusate Perché adesso Vedendo la tramite La schermata Non è reattiva Mannaggia E loro Potevano creare Una sorta Di reattività Con questa parte Destra Della skin Perché no Nel dubbio Ragazzi miei Acquista pacchetto Codigo Martix E la tienda De Fortnite E andiamo Esploso Oh yes Bellissima Adesso aspettiamo Solamente Stix Provato anche ieri In anticipo Il nostro Early access Tarocco E ci siamo Ragazzi Belle skin Nozze Davvero Tante belle cose Stanno droppando Mi piace questa Sezione in evidenza Molto caruccia Andiamo qua giù Non dovremmo Avere altro Niente di nuovo No Assolutamente No Ma va benissimo Così ragazzi miei Io spero che il video Finora sia stato Di vostro gradimento Mi raccomando Condividetelo Con tutti I vostri amici Fatevi sapere Che le sfide Della Roy Sono tornate Quindi magari Per chi non le avesse Ancora completate È una big Opportunità Noi siamo tornati A 70 V-Bucks Davvero belli Da guardare Davvero carucci Ci becchiamo più tardi Alle 14 e 30 Con il nostro Shorts Quotidiano Oppure ogni singolo giorno Qua alle 7 del mattino Con il vostro Martexone A prestissimo Un saluto Da Martex E come al solito un bel SRAB BROTHERS